Finale thriller all'uscita di Crotone, il Cerignola passa in vantaggio al 91esimo su erroraccio di Dini, i calabresi pareggiano. Un minuto dopo, con il colpo di testa di Gomez, prima del triplice fischio, Neglia la mette sull'esterno della rete d'ausilio, coglie la traversa sfiorando l'impresa. Una a uno e tante emozioni tra Crotone e Udace Cerignola di scena per il turno infrasettimanale della quarta giornata, giallo-blu che escono dall'uscita con qualche rammarico ma soprattutto con l'imbattibilità dopo le prime quattro uscite di campionato. Il primo tempo si apre subito con una chance pugliese all'undicesimo, D'Andrea ci prova da lontano, Dini respinge, Neglia da due passi, sbaglia tutto. Al quattordicesimo il cross di Sainz Mazza, diventa un tiro, Dini è reattivo e la difesa fa muro, poi suma il core. Al ventiduesimo per la prima volta si affaccia il Crotone in area cerignolana, grande bagarre, poi lo Iacono mette il pallone in porta ma il direttore di gara ferma tutto per fuorigioco. Al trentanovesimo ci prova Tribuzzi, colpo di testa al lato ma c'è deviazione in corner, dallo stesso angolo salta di testa Giron, Krapikas si tuffa per la deviazione. Finale di marca calabrese, quarantunesimo, Tribuzzi ci prova dal limite, coordinazione non semplice, palone sul fondo, 0-0 all'intervallo. Nella ripresa parte meglio il Crotone e il cinquantacinquesimo quando Dursi si inserisce ben in aria, Krapikas è attento, sessantatreesimo, cross dalla destra, Tuminello ci arriva ma senza dare forza. Al sessantasettesimo Felipe, ne è entrato, ci prova col mancino da lontano, sicuro il portiere giallo-blu, il cerignola risponde. Al settantatreesimo con Sosa, conclusione non lontana dal palo, stesso esito dall'altra parte. All'ottantesimo sul tentativo di Felipe che trova una serie di deviazioni. Partita che sembra dunque destinata alla 0-0, poi al novantunesimo un lancio innocuo di Ruggero, diventa letale Perdini che la perde così. Gran pasticcio, cerignola in vantaggio all'uscita. La reazione dei calabresi è immediata perché un minuto dopo Girò trova la testa di Gomez, girata precisa per l'1-1, parità ristabilita. Ma prima del triplice fischio il cerignola divora due grosse chance per la vittoria al novantacinquesimo. Neglia trova solo l'esterno della rete d'ausilio, la mette sulla traversa, finisce così. Bella prova per i ragazzi di Tisci che sfiorano il colpo ma devono accontentarsi di un punto comunque prezioso. prossimo impegno lunedì 25 settembre al Monterisi contro la Juve Stavia, Crotone di Scena, domenica ancora in casa contro il Sorrento.